Movida, nuovo patto comune commercianti, De Magistris annuncia la delega alle notti napoletane, una svolta nella sinergia tra comune e associazioni di operatori economici e commerciali che danno vita al patto di convivenza consapevole, saranno coinvolti anche i residenti. Sviluppo, boccia, serve una svolta, il presidente di Confindustria avverte per recuperare il gap con le altre economie, c'è ancora tanta strada da fare, bene la semplificazione, il Jobs Act ma non basta. Assenteismo all'Eav, bomba al Loreto Mare, tre furbetti sospesi nell'azienda dei trasporti a Ischia, usufruivano senza diritto della 104, a Napoli davanti all'ospedale esplode un ordigno durante una manifestazione dei lavoratori della riabilitazione. Calcio scommesse, meno sette per l'Avellino, pesanti le richieste di condanna da parte della Procura federale al processo per due partite sospette del 2014 in B, ma i difensori del club ottengono il rinvio al 7 aprile, il processo dovrà iniziare da capo. Fonderie in regione ancora nulla di fatto, fumata grigia a Palazzo Santa Lucia dove oggi si è tenuto il vertice istituzionale per definire il sito dove dovranno essere delocalizzate le acciaierie di Fratte, esclusa per ora l'ipotesi di Forni. Barista Sannita dice no alle slot, a Baseli c'è un segnale importante contro il gioco d'azzardo, Carmelo, titolare di un pub, rinuncia alle slot machine perdendo guadagni importanti, il sindaco del paese a chi fa lo stesso dimezzerò la tassa sui rifiuti. Erano i nostri titoli, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News. In apertura la movida violenta a Napoli, il Comune stringe un accordo con le associazioni dei commercianti per il controllo della vita notturna. De Magistris ci saranno regole da rispettare con una sinergia tra residenti e commercianti. Ascoltiamo i dettagli. La vita notturna di Napoli sarà più controllata. Questa mattina è stato siglato un accordo tra Comune e Associazioni dei commercianti, tra le richieste avanzate al sindaco Luigi De Magistris e alla giunta anche la convocazione degli stati generali della notte, così da analizzare il fenomeno e trovare le giuste risposte. Tutti insieme, dice il sindaco, dobbiamo fare uno sforzo per trovare l'equilibrio tra le esigenze di chi ha un'attività di intrattenimento e chi vuole vivere la notte. La consapevolezza che la notte diventa un qualcosa di peculiare, una grande opportunità, anche una certezza del momento che sta vivendo Napoli, ma anche quello di fare ogni sforzo tutti insieme per prevenire invece situazioni che poi sono anche spiacevoli certe volte, dove non si trova quel punto di equilibrio tra chi fa attività economica, chi vuole vivere la notte e chi però anche vuole riposare. Si va verso una professionalizzazione della vita notturna di Napoli, ha detto l'assessore Raffaele del Giudice. Abbiamo fatto questo codice di autoregolamentazione che sta funzionando, chi è fuori da questo codice scattano i provvedimenti e le sanzioni, i controlli, ringrazio i vigili urbani e la polizia locale che sta facendo un lavoro straordinario. Abbiamo la possibilità così di far emergere operatori improvvisati, di far emergere abusivi e soprattutto di attuare una catena tra operatori, tra enti locali, municipalità. Insomma abbiamo così coinvolto tutti perché passeremo adesso al secondo step di questo percorso che è quello del coinvolgimento dei cittadini e dei comitati. I temi dello sviluppo per recuperare il gap con le altre economie c'è ancora tanta strada da fare. Bene la semplificazione, il Jobs Act ma non basta. Così il Presidente Nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che a Napoli ha presenziato all'inaugurazione della Business School. Il Jobs Act è stato solo l'inizio per riportare l'Italia a livelli di crescita importanti. È necessario rafforzare la strada delle riforme con un invito alla politica a non concentrarsi solo sull'architettura della futura legge elettorale ma anche sui temi che riguardano da vicino l'economia ed in particolare i giovani. Questo il monito del Presidente Nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenuto a Napoli in occasione dell'inaugurazione della Ipe Business School. L'inquilino di Viale dell'Astronomia ha ricordato che, soprattutto nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania, c'è un tessuto imprenditoriale che ha dimostrato dinamicità e che ha bisogno delle giuste risposte da parte della classe dirigente. Una parte del sistema industriale comincia a reagire, gli effetti si vedono. È ancora alto il divario tra imprese che vanno bene e non vanno molto bene. È alto il divario tra cittadini e tra paesi d'Europa. Dobbiamo lavorare a una grande stagione di inclusione dei giovani e determinare un acceleratore interno alle fabbriche per continuare a reggere e costruire una crescita che sia elemento per combattere diseguaglianze e povertà ma anche una politica economica di medio termine in chiave italiana ed europea che possa rispondere ai né protezionismi di altri. È evidente che il Jobs Act è una questione di regole. Accanto a questo ricordiamoci che dobbiamo però costruire quello che abbiamo definito un intervento organico di politica economica. Su alcuni aspetti ci siamo, la maggiore intensità di credito d'imposta al mezzogiorno per gli investimenti va in questa direzione e può costruire la base per un mezzogiorno laboratorio di attrazione di investimenti per il Paese. Hanno chiesto dei permessi ex legge 104 lo scorso dicembre ma non si sarebbero recati dall'assistito e allora tre dipendenti della società di trasporti regionale Eav in servizio a Ischia sono stati sospesi per aver indebitamente fruito dei giorni di assenza richiesti. L'Eav, informa il presidente del CDA Umberto De Gregorio, ha avviato le procedure disciplinari. E ancora attenzioni al Loreto Mare dopo il blitz antiassenteismo. Questa mattina esplosa una bomba carta durante una protesta dei lavoratori Silba di Salerno. intanto il direttore sanitario Corvino è tra gli indagati dei furbetti del cartellino perché non avrebbe controllato le presenze. A Loreto Mare non c'è pace dopo il blitz antiassenteismo e quello delle truffe alle assicurazioni. Questa mattina è stata fatta esplodere una bomba carta durante una protesta. L'esplosione è avvenuta alle 9.30. La bomba carta è stata posizionata sotto il camper dell'attac mobile che si trova nel parcheggio dell'edificio. Al momento dell'esplosione c'era un paziente all'interno con il personale radiologico. Momenti di paura si sono vissuti, il buato è stato fortissimo ed è stato avvertito in tutta la zona. Questa mattina un centinaio di lavoratori della società Silba di Salerno si sono riuniti in protesta fuori dal pronto soccorso perché sostengano che sono a rischio 500 degenti affetti da disabilità mentali e 350 posti di lavoro. Stiamo portando avanti questa avvertenza da 5 anni, forse qualcosa in più. Ogni volta che noi, sia i CDA e sia le riunioni che abbiamo invitato, la famiglia De Falco è stata sempre assente. Siamo qui perché una parte della società, del gruppo Silba, non vuole incontrare l'altra parte della società. Quindi non incontrando l'altra parte della società non firmano il bilanciamento e non sappiamo più il nostro futuro. La polizia, chiamata dal direttore sanitario dell'ospedale Mariella Corvino, indaga sull'accaduto. L'attacca mobile costa circa 3.000 euro al giorno di noleggio e serve a sopperire il defo dell'unica attacca attualmente in funzione nell'ospedale del reparto di neuroradiologia. Intanto continuano le indagini allo ritomare. Tra gli indagati ora risulta anche la stessa dirigente che, secondo l'accusa, non avrebbe vigilato sul controllo delle presenze. Al vaio dei PM le posizioni di altri dieci dirigenti, fra amministrativi e medici. Calcio scommesso e meno 7 per l'Avellino. Pesanti le richieste di condanna da parte della Procura federale al processo per due partite sospette dei Biancoverdi del 2014 in Serie B. Ma i difensori del club ottengono il rinvio al prossimo 7 aprile. Di fatto il processo dovrà iniziare da capo. Da Roma il nostro inviato, Marco Festa. Sette punti di penalizzazione e 140 mila euro di ammenda. La richiesta della Procura federale per le presunte combinne nella stagione 2014 da parte di alcuni ex tesserati dell'Avellino. Questo è lo scenario che si era palesato dopo l'udienza del processo sportivo di primo grado questo pomeriggio in via Campania, qui al Tribunale federale nazionale. Scenario però totalmente ribaltato in base all'accoglimento di alcune eccezioni dalla parte della difesa e dunque udienza di primo grado a Bissi il prossimo 7 aprile. Mi aspettavo che potevamo uscire direttamente indenni già da oggi, però l'ansia c'era e adesso vedremo quello che sarà. Una cosa è certa, noi adesso dobbiamo pensare solo al campo e al calcio giocato perché abbiamo tutti i requisiti per poterci salvare e mantenere la promessa che abbiamo fatto alla piazza. I nostri tesserati non li ho ancora sentiti proprio perché siamo appena usciti. Voglio soltanto dire di stare sereni e di aspettare fiduciosi il lavoro che hanno fatto gli avvocati. Mi è sembrato di capire che in una delle partite, a differenza di quanto hanno sostenuto i pentiti anziché scommettersi 400 mila euro, avrebbero scommesso soltanto 44 mila euro. Pertanto questa nuova acquisizione investigativa innegabilmente, a mio avviso, indebolisce il teorema accusatorio. Oggi è una giornata positiva, che poi qualcuno sperava che l'Avellino uscesse in denne in quattro battute da un processo di questa serietà che è stato avviato dalle indagini della direzione strattuale antimafia di Napoli. Questo vuol dire che era fuoristrata chi pensava a questo. Incidente mortale sul lavoro a Scafati nel Salernitano a perdere la vita è stato un operaio di 32 anni. in servizio presso una fabbrica che si occupa di produzione vetri. A quanto sembra il dipendente è stato schiacciato da una lastra sul posto dei carabinieri della tenenza di Pagani che hanno effettuato il sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 32enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Anno c'era inferiore, aperta un'inchiesta. Arriva un risarcimento record per Matilde Sorrentino, mamma coraggio di Torre Annunziata, ammazzata nel 2004 per aver denunciato gli orchi che violentarono suo figlio. Rocco, fatti bene. Gli hanno negato il diritto all'infanzia. Gli hanno strappato la madre, ammazzandola sotto i suoi occhi a colpi di pistola solo perché aveva trovato il coraggio di denunciare gli orchi che violentarono il figlio quando aveva appena sette anni. Oggi Salvatore di anni ne ha trenta. Riceverà un maxi risarcimento di 800 mila euro. Lo ha deciso la Corte di Appello di Napoli con una sentenza che, almeno dal punto di vista civilistico, rimette le cose a posto sulla brutta storia del rione Poverelli a Torre Annunziata, dove alcuni bambini di una scuola elementare finirono nelle mani di una banda di pedofili. Tre madri coraggio denunciarono i fatti. Una di loro era Matilde Sorrentino, la madre di Salvatore. A 49 anni, nel 2004, fu uccisa a bruciapelo sulla porta di casa sotto gli occhi del figlio che riconobbe il killer. La sentenza è uscita a chiusura del procedimento seguito in tutti questi anni dagli avvocati Elena Coccia e Marco Ferrara. Mentre passavano gli anni, le leggi cambiavano. Quindi le prescrizioni da dieci anni arrivavano a cinque. Gli spazi di giustizia si restringevano sempre di più, ma appunto la Corte d'Appello credo che abbia fatto giustizia di tutto ciò. È stato quanto minimo singolare che nelle sentenze di appello non si è stato riconosciuto lo stato di vittime della criminalità organizzata. Quando Matilde è stata uccisa, nessuno si ricordava più che questo episodio era connesso alla questione, alla denuncia da lei fatta insieme ad altre mamme. L'unica a ricordarla evidentemente erano i killer e i mandanti del killer. Il mio pensiero è che la giustizia tarda arriva, ma poi arriva. La politica, la vicenda del tesseramento PD in Campania, il governatore De Luca la definisce sconcertante e imbarazzante. Al pari di tutte le inchieste sottolinea di aver fiducia nella magistratura, il governatore parlando anche del PD di Napoli aggiunge è un partito che non produce un'iniziativa pubblica da cinque anni. Tutto questo, aggiunge, ha ovviamente una ricaduta nell'opinione pubblica. E dal tesseramento gonfiato al caso Listopoli sono stati gli argomenti che il direttore Pierluigi Merillo ha trattato con Antonio Gengaro, esponente del circolo PD. A punto di vista, in onda dopo il Tg Sport, duro l'ex vicesindaco di Avellino con l'amministrazione Foti la peggiore nella storia della città. Alcuni passaggi. A Napoli probabilmente la batosta alle elezioni amministrative non è bastata. Non è bastata questa inchiesta micidiale sui candidati a loro insaputa all'interno delle liste e anche con avvisi di garanzia che sono già in cottura da parte della magistratura napoletana. C'è stata poi nel passato le vicende relative alle primarie Farlock. Insomma, probabilmente a Napoli non basta mai abbastanza quello che è accaduto in passato per imparare le lezioni. Poi uno può fare tutti i giochetti che vuole, poi alla fine gli elettori valutano, decidono e anche quelli che si sentono del PD di fronte a queste schifezze poi giustamente, legittimamente intraprendono altre strade. Perché questa amministrazione viene percepita dall'opinione pubblica come la peggiore di tutti i tempi? Perché è un'amministrazione che non ha un progetto, non ha un'idealità, non ha mai avuto una coesione tra i suoi ranghi perché anche questo ha inciso, non ha un partito cittadino che detti una linea ovviamente programmatica negli indirizzi. Siamo una piccola città del mezzogiorno ripiegata su se stessa che insegue il miraggio di spendere gli ultimi fondi europei, ma poi alla fine se li devi spendere per fare i casatieli o i mausolei come quelli appena realizzati in Piazza Libertà, insomma serve a poco utilizzare questi risorsi. Fonderie Pisano, fumata grigia in Regione Campania dove oggi si è tenuto il vertice istituzionale per definire il sito in cui dovranno essere delocalizzate le acciaierie di fratte, esclusa per ora l'ipotesi forni, ma ascoltiamo i dettagli con Rossella Strianese. Alla fine il ventaglio delle opzioni si dovrà ridurre a due o tre siti tra quelli ritenuti più idonei ad ospitare il nuovo impianto delle acciaierie Pisano. Questo in sostanza l'esito è l'incontro che si è tenuto negli uffici della Presidenza della Regione Campania oggi sul destino delle fonderie di fratte. All'incontro, preseduto da Fulvio Bonavitacolo, hanno preso parte l'assessore regionale alle attività produttive, Amedeo Lepore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e gli assessori Caramanno, De Maio e De Luca, oltre all'ingegnere Ciro Pisano in rappresentanza della proprietà delle fonderie. Le amministrazioni presenti hanno preso positivamente atto della metodologia individuata dall'azienda al fine di individuare le aree industriali nelle quali è potenzialmente delocalizzabile l'impianto produttivo di Salerno. In particolare l'attenzione si è incentrata sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche del sito, che potrà essere ritenuto più adatto. È stato inoltre valutato l'aspetto legato al piano economico. Le amministrazioni presenti hanno invitato l'azienda a selezionare la rosa dei siti, tenendo conto innanzitutto della compatibilità ambientale e della localizzazione in ambiti urbanistici di carattere industriale, sui quali sono attivabili procedure amministrative semplificate. Le scelte saranno valutate nel corso di un prossimo tavolo, che si riunirà a breve. Nel frattempo nessuna indiscrezione è emersa sulle località individuate, ma è chiaro che la volontà della Regione è quella di giungere al più presto ad una soluzione che sia in grado di mettere d'accordo l'esigenza di tutela della salute e il mantenimento dei livelli occupazionali. Di sicuro, per il momento, come ha confermato l'assessore all'ambiente questa mattina, è esclusa l'ipotesi di portare l'impianto a Forni. Da Basilice nel Sannio un segnale importante contro il gioco d'azzardo. Carmelo, titolare di un pub, rinuncia alle slot machine, perdendo evidentemente guadagni importanti. Il sindaco del paese apprezza. A chi farà lo stesso, dimezzerò la tassa sui rifiuti. Dire no, a oltre 100.000 euro facili facili si può? Sì, secondo Carmelo Paolozza di Basilice, titolare di un pub che ha aderito alla campagna no azzardo di Caritas. Aveva tre slot machine, le ha fatte togliere. Ho visto troppa gente buttarci via la vita lì dentro, racconta. Ragazzi che addirittura, non lo so, facevano incantesimi alle macchinette pur di prendere qualcosa di soldi. A quanti soldi hai rinunciato togliendo le slot? Devo rispondere, sono un po' imbarazzato a dirlo ma si tratta di un centinaio di migliaia di euro. Poniamo il caso, tre slot quanto guadagneresti in un mese? Penso non meno di mille euro al mese. Sono soldi? Tanti, soprattutto in questo periodo di congiuntura sono tanti, tanti soldi. Un gesto apprezzato anche dal sindaco canonico che ha aperto, con sconti massicci sulla tassa rifiuti, a chi emulerà Carmelo anche se per ora l'iniziativa non ha avuto grosso seguito. È rimasto l'unico, l'unico coraggioso che ha usufruito di questo bonus però ha voluto dare un segnale fortissimo perché ha rinunciato a degli incassi interessanti di un certo interesse però ha tenuto di fondamentale importanza dare un segnale di tipo etico e morale. Questo gli fa onore. Ad Avellino la maggioranza consigliare diserta ancora una volta all'aula, salta il Consiglio Comunale sulle politiche sociali, i Foti minimizza mentre l'opposizione attacca. Ad Avellino salta il Consiglio Comunale sul piano di zona e l'opposizione insorge. D'ora in poi inchioderemo la maggioranza le sue responsabilità, tuona Giancarlo Giordano. Foti intanto minimizza, assenze che rientrano nella normale schermaglia dialettica tra maggioranza e opposizione, visto che il Consiglio lo aveva richiesto la minoranza. Ida Grella però ammette occasione persa per uscire dallo stallo delle politiche sociali. Do atto all'opposizione che questa occasione era quella per chiarire e probabilmente per smuovere le acque. Penso forse che le assenze dei miei colleghi, tra l'altro la Percopolo ha dichiarato in maniera aperta agli organi di stampa, sia dovuta al fatto che su questo Consiglio Comunale in realtà su un elemento così difficile e drammatico come i piani di zona non ci eravamo incontrati più. E per preziosi le parole e difoti sono di una gravità inaudita. Perché fino a che esistono i regolamenti e gli statuti la minoranza può chiedere la convocazione di un Consiglio. Evidentemente non erano preparati e dice che è una schermaglia tra maggioranza e opposizione. Cioè buttare la colpa addosso all'opposizione è quanto più ridicolo possa essere. Il dispetto non lo fa nell'opposizione, lo fa la povera gente che ha bisogno di servizi, ha bisogno di assistenza e non di occupare poltrone o spazi di potere. Il susseguirsi di furti che interessa da settimana intere zone, interi quartieri della città di Salerno non deve destare preoccupazione a dirlo il procuratore capo Corrado Lembo che invita la cittadinanza ad evitare ronde e iniziative fai da te affidandosi esclusivamente alle forze dell'ordine. Il procuratore capo di Salerno Corrado Lembo rassicura e dice la sua sull'escalation di furti che sta interessando la città nelle ultime settimane. Da Parco Arbostella dove i cittadini hanno messo su una petizione per installare delle telecamere di videosorveglianza ai quartieri collinari che si sono organizzati con vere e proprie ronde a controllo del territorio. Salerno è tutto sommato una città sana. Ci sono dei fenomeni che noi seguiamo con la massima attenzione possiamo tranquillizzare i cittadini dicendo che bastano e direi anche avanzano le forze dell'ordine. Non occorre creare ronde o iniziative particolari per fronteggiare questi fenomeni di micro criminalità che la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, tutte le forze dell'ordine sono in grado di fronteggiare pienamente con competenza e anche come si è visto di recente con risultati importanti sul piano investigativo e processuale. Le dichiarazioni del procuratore a margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa l'arte della giustizia che si terrà in città negli edifici della diocesi e del duomo di Salerno dall'11 marzo al 15 giugno con certi mostri e incontri sui grandi temi della legalità, violenza di genere, immigrazione, minori. Aiutare a crescere soprattutto attraverso una proposta educativa è un aiutare la comunità, la società, le persone e l'arte che è l'apertura al bello credo che possa essere una strada privilegiata. Operazione antidroga della guardia di finanza di Benevento che ha notificato un ordine di arresto nei confronti di una coppia e ha sequestrato un ingente quantitativo di hashish. Fallarino. Marito e moglie arrestati a Benevento al termine di un'operazione antidroga scattata ieri quando i finanzieri hanno notificato ad entrambi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lui ai domiciliari per lei. Emessa dal GIP del Tribunale Sannita al termine delle indagini su un presunto giro di spaccio di droga nel centro storico e in particolare nel rione Trigio del capoluogo Sannita. Nei confronti dei coniugi è scattato anche il sequestro dei beni. Nel mirino degli investigatori dunque una vera e propria piazza di spaccio prima in mia Calabria e poi in mia Minghetti. Durante le operazioni i finanzieri hanno effettuato anche una serie di perquisizioni durante le quali sono stati rinvenuti e sequestrati i due chilogrammi di hashish 2.450 euro in banconote di vario taglio, un sistema integrato di videosorveglianza ed oltre 20 grammi di marioana. I 20 panetti di hashish sono stati però rinvenuti all'interno di uno spazio condominiale e per questo sono ancora in corso le indagini. Un tentato furto, stamattina scosso l'ufficio legale del comune di Avellino. Un uomo si è introdotto in una stanza e avrebbe tentato di trafugare qualcosa da una borsa ma è stato fermato. Vediamo. Mattinata di caos all'ufficio legale del comune di Avellino. Un senza fissa dimora a domiciliato presso la casa comunale avrebbe tentato un furto mentre i dipendenti dell'ufficio stavano festeggiando l'onomastico di una di loro. Sorpreso in flagranza, l'uomo è scappato, ne è nato un inseguimento e alla fine è stato bloccato in piazza del popolo da una pattuglia di vigili urbani. Stavamo festeggiando l'onomastico della nostra cara collega Tiziane e all'improvviso abbiamo visto questo tizio che è entrato nell'ufficio e ha rubato non so cosa nella borsa della nostra collega. L'abbiamo dovuto anche rincorrere non solo io ma più di una persona, più di un collega però per fortuna l'abbiamo preso e ce l'hanno preso le forze dell'ordine, quello è l'importante. Il collega è l'avvocato Sarduzzi come avete visto ed è stato bravo a chiudere il testo e così abbiamo fatto subito, abbiamo chiamato i vigili e subito l'hanno acchiappato. Ci siano più controlli assolutamente perché comunque c'è in pericolo la nostra incolumità perché noi veniamo qui a lavorare e non a divertirci. Lui, il presunto ladro, si difende così. C'era una donna, sta donna ha detto no, blocca, lo chiamiamo i carabinieri, questo e quell'altro e in quel momento sinceramente sono andato un po' nel panico, visto il mio trascorso però poi dopo ci ho pensato sopra, siamo tornati indietro, sono entrato dentro e ho detto allora facciamo così, visto e considerato che nei miei confronti si sta insinuando che io abbia fatto un gesto del genere, mo' mi ha dispogliato e vediamo se io addosso c'ho qualcosa. Alla fine in ogni caso la vittima ha preferito non denunciare l'accaduto. Cambiamo completamente argomento. Dopo il successo del libro In Cucina contro il cancro, l'oncologo Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Toracica, ha pubblicato in questi giorni un altro interessante volume. Eccolo, nelle immagini, la cucina salva vita, circa 80 ricette inframezzate da schede tecniche sui prodotti, insomma una guida all'alimentazione corretta contro il cancro. E ora andiamo a Napoli a sentire i pareri dei napoletani sul murales che raffigura Diego Armando Maradona a San Giovanni a Teduccio. Il volto è incastonato nella barba nera, il look è quello di quando era CT dell'Argentina. Diego Armando Maradona appare nel Bronx di San Giovanni a Teduccio, nell'enorme murales realizzato dallo street artist Jorit. L'opera però non è ancora completa, manca la seconda parte, quella che raffigurerà un bambino sul Palazzo Attiguo. Due generazioni a confronto lì in Via Taverna del Ferro, in un quartiere tristemente noto per fatti di camorra, che ora invece risplende con l'immagine del pibe d'oro. Il progetto nasce da un'idea di Jorit e noi l'abbiamo immediatamente sostenuto, aiutato per quanto possibile con l'autorizzazione della parete che era stata concessa a noi dal comune di Napoli nel 2015 e danno anche un contributo economico per l'acquisto di materiale. È una bellissima cosa, teniamo a precisare che il comune non ha dato fondi, è stata una cosa del quartiere, è una bellissima cosa. Pensate che abito a Ercolano, sull'apretto Cozzolino e da casa mia in lontananza lo vedevo, stamattina così mi sono detto che devo andare da vicino a vederlo, è spettacolare. Valorizzare questi luoghi è sempre importante, noi diciamo tante piccole azioni aiutano a concretizzare poi dei percorsi, quindi come si dice i luoghi quando sono arredati, quando sono puliti vivono tutti meglio. E' una donna San Giovanni atteduccio, speriamo dire un riscatto sociale per San Giovanni, per come stanno le situazioni oggi e magari sarebbe anche bello vedere qualche altro grande artista napoletano. Passeggiare nella riserva WWF degli Astroni a Napoli e fare un salto nel passato, un salto nella preistoria dei dinosauri, sarà possibile da domani con la mostra Dinosauri in carne e ossa, sentiamo di più. Si può sopravvivere ad un'estinzione di massa? Al quesito prova a rispondere la mostra Dinosauri in carne e ossa, che da sabato 4 marzo fino al 5 novembre prossimo sarà visitabile nell'oasi riserva naturale WWF del cratare degli Astroni a Napoli e che avrà per filo conduttore il tema dell'estinzione delle specie. Sembra un vero e proprio mondo perduto in cui questi animali sembra che si siano appunto risvegliati così come vivevano milioni e milioni di anni fa. Abbiamo dinosauri e animali preistorici a grandezza naturale, abbiamo i dinosauri più famosi come il celebre T-Rex, non dimentichiamo anche un dinosauro campano, il piccolo Ciro Scipionix amniticus, che è stato il primo dinosauro trovato in Italia, è diventato famoso in tutto il mondo. Una mostra davvero eccellente, straordinaria e unica, perché mostre più o meno simili le abbiamo viste nei musei, nei luoghi chiusi, che anche sono belle, ma qui sono spettacolari. Diventa un vero simbolo perché tu hai la possibilità di osservare questi animali come se fossero in natura e quindi ti dà la sensazione di quello che tu avresti potuto vedere se fossi vissuto 66 milioni di anni fa. Però per noi diventa un grande esempio per far capire a tutti che cosa significa un'estinzione di massa e far capire a tutti la responsabilità dell'essere umano, di noi tutti, in quello che stiamo provocando oggi, che è una vera e propria estinzione di massa. La Comunità Scientifica Internazionale ci sta avvisando che stiamo creando gli effetti nefasti che stanno distruggendo la ricchezza di vita che con noi ha convissuto fino ad ora e che sta convivendo in questo straordinario pianeta. Ha firmato questa edizione in regia Orlando Matarazzo, ora vi lascio al meteo poi a seguire il Tg Sport. Una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.